Grazie Presidente. Il Parlamento europeo è chiamato a rinnovare concretamente la solidarietà all'Ucraina con il nuovo meccanismo di cooperazione per i prestiti, a cui sono orgoglioso di aver lavorato per conto del mio gruppo politico. Uno strumento urgente e necessario per sostenere un Paese europeo che si trova sotto l'attacco brutale e ingiustificato della Russia di Putin, che sta intensificando il suo sforzo bellico proprio per distruggere infrastrutture strategiche ed energetiche dell'Ucraina, proprio adesso che l'inverno si avvicina per provocare ulteriore sofferenza a un popolo che lotta per la sua libertà. Uno strumento giusto perché i 45 miliardi di aiuti che arriveranno a Kiev saranno finanziati dai profitti derivanti dagli asset sovrani russi congelati, perché il costo del sostegno all'Ucraina deve essere pagato da chi è responsabile per tale devastazione, non dai cittadini europei. Credo che l'Unione debba tenere quindi aperte tutte le opzioni per garantire il sostegno fattivo alla stabilità finanziaria e alla ricostruzione dell'Ucraina, perché il futuro dell'Europa passa da qui. Grazie.